Qui con Romina Power, Milano Fashion Week, presentazione della collezione Primavera-Estate 2018 di Laura Biagiotti, un suo personale ricordo di questa grande stilista. Di ricordi di Laura ne ho tanti negli anni, Laura era una cara amica, quindi i ricordi sono tantissimi ed è come se lei ci fosse oggi qui con noi. La vigna porterà avanti sicuramente con maestria questa firma perché è stata educata molto bene dalla mamma e le faccio tanti in bocca al lupo alla vigna per continuare con forza e coraggio. Cosa l'ha colpita in particolare di questa presentazione? C'è stato un momento in cui, insomma, si è emozionata? Beh, alla fine vedendo tutte le fotografie che ricordano la carriera di Laura, le foto di Laura e la Biagi insieme, ci sono tante cose, tante che mi fanno emozionare qui.